Non è riuscito a vincere il male contro cui combatteva da tempo. Angelo Dossena aveva 67 anni, si è spento nel suo appartamento nel centro di Crema sabato pomeriggio. Negli anni 70 fu tra i dirigenti del settore artistico del teatro alla Scala di Milano, dove arrivò grazie all'entusiasmante esperienza maturata nel cremonese con la creazione del Recitar Cantando, movimento teatrale che coinvolse 36 comuni con 370 spettacoli e che per dieci anni lanciò Cremone, la sua provincia, nell'Olimpo delle città culturalmente più impegnate e attive, un vero e proprio laboratorio. Recitar Cantando, l'invenzione della politica culturale, il primo esempio in Italia. Questo è il titolo del libro che Dossena presentò durante ore 12 il 4 novembre 2016 in compagnia di Corrado Testa. Fu una congiunzione, come spesso succede, soprattutto una congiunzione di uomini, di persone, anzi uomini mi sembra un po' eccessivo perché all'epoca avevamo un'età media di 26 anni. Noi sostenevamo nella battaglia contro Spoleto, pensare che illusi e che pazzi eravamo da giovani. Il 22 ottobre 2016 il fulgido periodo del Recitar Cantando venne ricordato con una riunione di tutti i protagonisti dell'epoca al Teatro Ponchielli, teatro che proprio grazie al Recitar Cantando passò all'amministrazione comunale. Non dimentichiamo che l'opera con la regia di Dario Fo, l'isturato soldato che la Scala aveva prodotto per il bicentenario ma che non era riuscita a fare alla Scala, si fece a Cremona. Non dimentichiamo che il vescovo di Cremona riuscì a fare, ad inventare la storia di chiudere la piazza per poter far pagare un po' di biglietto per far entrare la gente in chiesa perché non si poteva far pagare il biglietto con l'orchestra e il coro del Teatro alla Scala diretti da Bado per la messa di Verdi. L'eroe Jenkins presso il palazzo Cavalcabò per la prima volta aperto a tutta la gente suonò lo Stradivari, sostanzialmente fu il primo, non so quanti o altri, jazzista a suonare uno Stradivari, afroamericano. All'epoca si diceva negro. Al recitar cantando e a Dossena il merito di aver rilanciato l'immagine culturale della città con un'operazione politicamente trasversale che riuscì nel miracolo di mettere d'accordo le amministrazioni di tutti i colori e con grande lungimiranza Dossena riuscì anche a rilanciare l'immagine del violino. Non era una grande epoca soprattutto all'inizio per il violino a Cremona. Mi ricordo che il sindaco di cui venne prima di poi di uno sviluppo, insomma così ancora mi diceva, io non conosco molto bene il dialetto ma mi diceva esattamente in dialetto, a Dossena a Monchè con Caitoc da lei nel lei. Da Gio Cochera a Casalmaggiore agli Intillimani, tanti concerti rimasti nell'immaginario collettivo fino al riconoscimento dell'allora assessore alla cultura di Roma Nicolini che si ispirò a Cremona per la famosa estate romana. Perché Nicolini diceva sempre recitare cantando è stata la mia fonte ispiratoria.